Gabicce Mare ha di nuovo il suo simbolo. Lo storico locale Mississippi, iconica palafitta sul mare, è di nuovo patrimonio di Gabicce, nonché suggestivo biglietto da visita delle marche dalla sua punta costiera settentrionale. Nella serata di giovedì si è portato a compimento un ampio progetto di riqualificazione di quello che, a partire dagli anni 60, fu un vero e proprio gioiello riconoscibile e unico nel suo genere, sia per caratteristiche strutturali, sia per una vista unica su mare, lungomare e San Bartolo. Il progetto di rivalorizzazione è stato portato avanti da comune e regione motivate a ritrovare quel gioiello. Questo è un momento storico per Gabicce Mare, perché rinasce un luogo simbolo, un luogo iconico per la nostra città turistica ed è la terza M che mancava, il mare, il monte e il Mississippi. Questo deve essere poi un trampolino di lancia affinché si possa andare sempre avanti verso questa qualificazione e questa caratterizzazione del nostro territorio. È il luogo che unisce il mare al monte. Ci tenevamo in particolar modo a trasformarlo, a riqualificarlo dopo anni di abbandono. Ci siamo riusciti, c'è stata grande partecipazione ed è un primo punto di partenza. Quindi ha raggiunto un risultato, un obiettivo. Si riparte oggi regalando alla città questo bellissimo spazio nel mare. Ce ne sono pochi di spazi di questo tipo da Trieste a vedere in giù. È già il primo monte ed è una delle prime parrafitte sul mare che si incontrano per tanti chilometri di costa. Questo è un progetto che è iniziato nel 2018 quando l'amministrazione comunale di Gabicce aveva deciso di portare avanti la riqualificazione di questo bellissimo spazio. Come Regione Marche già dal 2018 avevamo stanziato 300 mila euro, una risorsa importante che sicuramente ha dato forza, ha dato anche energia a questo progetto e il comune di Gabicce poi ha messo il resto. Abbiamo fatto un'operazione decisamente importante, molto impegnativa, 20 mesi circa, 22 anni per fare progetti di realizzazione, un edificio in mezzo al mare, quindi tante difficoltà anche proprio cantieristicamente parlando. Eppure ci siamo riusciti, credo con una qualità notevole, con imprese locali, molte di queste, quindi anche con la soddisfazione da parte di tutti aver contribuito ognuno per ciascuno proprio però con un tassello. Un edificio, come si diceva in Ezeb, quindi a consumo quasi zero, un edificio che si è scaricato con il peso di circa il 40% su questa piattaforma, perché sono dei telai in acciaio e un solai in legno, mentre prima era in cemento armato. Chiaramente una forma, una composizione architettonica del tutto innovativa, queste grandi forme, queste grandi linee, queste grandi bocche che ricordano un pochino le bocche di una nave, di un pesce e comunque delle forme marine, un sistema anche di aiuto multimediale che ci aiuta a raccontare la storia, il valore del nostro territorio, quindi tutta una serie di cose che credo che possano contribuire a far sì che questo edificio riesca a vivere, far vivere il turismo, il territorio e tutte queste belle cose di Gabicce e anche della regione, credo.